Insieme a Milano, questa sera è la partita più importante della stagione, finora. Sì, sì, è vero che oggi abbiamo giocato bene, soprattutto abbiamo giocato insieme e questo è molto importante perché quest'ultimo mese abbiamo fatto un po' fatica e oggi comunque ognuno di noi aveva voglia di vincere, voglia di andare in finale. Sappiamo che avremo una partita molto tosta in Turchia e comunque loro oggi hanno, cioè non c'era Erdem che secondo me sarà lì per la prossima partita quindi brava noi oggi, però sappiamo che martedì prossimo sarà molto duro però vogliamo questa finale e spero che faremo tutto per vincere. Si sapeva che ci sarebbe stato da soffrire sulla loro battuta, siete state bravi anche in quello, non vi siete scoraggiate mai. Sì, sì, è vero, però oggi comunque abbiamo visto che la differenza è stata inizia, loro hanno fatto tantissimi break sulla battuta, anche noi, però noi siamo state brave a trovare le soluzioni in attacco e quindi bravi noi. Non hanno fatti? Saresti mai aspettato di chiudere da MVP in la semifinali di Champions? No, onestamente non mi aspettavo, ho solo pensato a giocare, a divertirmi e sono contenta perché non è una stagione molto facile per me, quindi sono contenta per oggi.